Ci sei? Allora, innanzitutto stiamo parlando con Laura Marchini, responsabile comunicazione, Casberg Italia. Perfetto, allora il tema quest'anno che abbiamo trovato è quello dell'intrattenimento nella modella comunicazione, però inteso come intrattenimento non momentaneo, perché quando parlo di comunicazione la prima parola che mi viene in mente è devo intrattenere l'altro, ma intrattenere in modo tale che si catturi l'attenzione del singolo, lo si tolga da una massa, praticamente dalla pluralità, e si riesca a mantenere alta l'attenzione anche successivamente in modo tale che poi quell'utente diventi veramente un partner, o comunque una persona acquisita per l'azienda, quindi lo si fidelizza al meglio. Allora, detto questo, abbiamo individuato possibili alternative per farlo, che ci sembravano più interessanti. Uno è faccio sorridere l'individuo, l'altro è lo faccio giocare e partecipare, l'ultimo è un motivo, lo ricarico. Detto questo, volevamo capire, secondo te, quale delle tre aveva maggior chance di successo oggi e per quale ragione? Io credo che fondamentalmente, delle tre che hai detto, due mi piacciono molto. Uno è il far sorridere e nel contempo però far anche giocare, quindi col sorriso sollevo l'attenzione, col gioco coinvolgo la persona. La fan theory che tutti conoscono e vedono sempre più spesso, effettivamente la trovo quella più corrispondente alle necessità di quello che è oggi l'utente o consumatore che lo si voglia chiamare. Coinvolgere, facendo divertire, è il modo migliore per far vivere un'esperienza, farla ricordare, fare in modo che la persona si senta coinvolta e motivata a continuare a partecipare. Quindi parte attiva dell'azienda. Assolutamente. E il discorso invece, il terzo filone, che è quello della ricarica, lo motivo, praticamente lo faccio sentire proprio realmente, perché lo faccio stare meglio, potrebbe essere una possibilità o dipende dal prodotto molto? Sicuramente il prodotto fa sicuramente la differenza, dipende molto, ma penso che faccio anche quasi parte anche delle altre due categorie che abbiamo visto, in quanto se faccio sorridere e lo coinvolgo nel contempo lo motivo e lo rendo più partecipe, esatto. Quindi diciamo che fondamentalmente sono tre filoni che possono sposarsi tutti e tre. Perfetto, l'ultima domanda, questo secondo te, fa in modo che effettivamente l'individuo si ricordi effettivamente di quel prodotto, quel nome aziendale o è soltanto, cioè se tutti pratichiamo la stessa strategia, in poche parole, non è soltanto un modo di sminuire il messaggio, ovvio poi l'idea creativa deve essere quella che è forte. Come sempre il come fa la differenza rispetto al cosa, quindi se c'è un vero coinvolgimento difficilmente poi il consumatore se ne dimentica o diventa qualcosa di secondario. Ma sicuramente ha un ricordo emotivo e qualcosa che lo motiva ad andare oltre, rimanere legato a quell'azienda, anche solo tenersi informato o comunque cercare qualcosa che lo porti a conoscere sempre di più questa azienda, quindi che sia esatto a prescindere. Perfetto, grazie mille. Grazie.